Qual è stato il tuo percorso professionale? Come ci sei arrivato a vincere tutti questi trevi? Adesso stai anche per diventare un broker a breve, però piccolo riepilogo di quella che è stata la tua storia professionale. Eccoci Eric, io ci stiamo risentendo, ci racconti un attimo piccolo riepilogo di quella che è stata la tua storia professionale. Allora, io sono entrato ormai due anni e mezzo fa, era il primo lavoro che facevo al termine della scuola e non è stato facile, ovviamente è stato il mio primo impatto lavorativo, come dicevo è il primo lavoro che ho fatto, ho incontrato delle difficoltà, molte volte ci viene da pensare. Le difficoltà che un ragazzo dopo magari 4-5 mesi, quindi che magari è già diventato account, però sta con 4 mesi di esperienza, che difficoltà ha incontrato e come le hai superate? Ma allora, io penso che noi facciamo un lavoro commerciale, quindi indipendentemente da quanto siamo bravi ci sono cose che possono slittare, possono non essere chiusi al momento, quindi questo può demoralizzare un ragazzo che magari ci ha messo molto del suo e magari momentaneamente non ottiene subito i risultati sperati. Però voglio rassicurare tutti, quelli che mi stanno guardando, che uno se ci mette impegno, costanze e determinazione, le cose arrivano. Questo è stato un po' il fulcro del mio percorso, non ho mai mollato, non ho intenzione di mollare e non lo farò neanche in futuro. Né questo mi ha ripagato e spero mi ripagherà sempre. Complimenti Eric, perché credo può essere da ispirazione per tanti nostri agenti. Me lo auguro. Me lo auguro.